Musica Buongiorno e ben trovati con l'informazione delle 13 su Telefriuli. Sono apparsi in alcune vie di utile da via Sant'Agostino a piazza Primo Maggio gli adesivi che vedono l'ex primo cittadino in divisa da deportato con il logo dell'Ampi appiccicato alla giacca e sotto la scritta Furio Onsel, sindaco di Auschwitz. Un gesto che dimostra deficienza nel senso di totale mancanza di conoscenza di quella che è la storia come ha intanto il sindaco in carica Carlo Giacomello. E questo a prescindere dal fatto che ad essere oggetto di questo vergognoso atto sia stata una figura come quella di Furio Onsel che proprio sul tema della resistenza e dell'antifascismo si è sempre battuto in prima persona. Udine ricorda Giacomello a nome di tutto il Friuli e medaglia d'oro al valore militare per la lotta di liberazione senza contare il fatto che proprio il capoluogo fiulano ha avuto un sindaco, Elio Morpurgo, morto durante la deportazione ad Auschwitz. Lui come milioni di altre persone morte nei campi di concentramento e di sterminio ha nostro compito dove per nostro non intendo noi come amministrazione ma noi come cittadini tutti, conclude Giacomello, è quello di essere sempre vigili affinché casi come questo siano isolati. Restiamo in qualche modo sul tema con Memo Bus, un progetto educativo rivolto agli studenti delle scuole superiori del Friuli e Venezia Giulia, un viaggio al contempo fisico e ideale all'interno delle memorie tragiche dello Shoah e dei totalitarismi. Si tratta di viaggi importanti che permettono agli studenti e alle studentesse di trasformare la memoria in cittadinanza attiva e di conoscere quella che è stata la storia del Novecento europea. Il percorso permetterà loro di provare delle esperienze che sono delle esperienze molto forti. Ho incontrato degli studenti e delle studentesse di ritorno da questi viaggi e l'esperienza, il loro sentire è stato davvero molto forte ma allo stesso tempo anche di ragionare, di comprendere e quindi di lavorare, e questo lo dicono sempre, per un futuro che non preveda discriminazioni così gravi, così forti e così dolorose come quelle che l'Europa ha approvato, ha avuto durante il Novecento. Sono percorsi che prevedono la visita dei campi ma anche del ghetto delle città e che sono costruiti anche con un percorso di approfondimento e di riflessione. Siamo alla cronaca, incidente poco dopo le 8.30 a Bruniera, due auto per causa ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate in via Camola all'altezza del Civico 22. Nel frontale una delle due automobiliste coinvolte hanno riportato ferite, per fortuna non gravi. Soccorsa del personale del 118 è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Pordenone sul posto anche ai vigili del fuoco. Entro tre anni la gran parte di Tolmezzo sarà priva di macchinette e mangiasoldi. La giunta comunale avrà dato una serie di misure per porre fine al loro proliferare per liberare completamente la città dalla loro presenza. Le slot machine a Tolmezzo hanno i giorni contati. Il municipio ha adottato misure tali da impedire l'installazione di nuovi apparecchi e da portare all'eliminazione di quelli esistenti, circa 105, che andranno progressivamente dismessi entro tre anni. Applicando la normativa sulle distanze minime sono stati individuati vari luoghi sensibili. Rientrano in queste categorie l'autostazione delle autocorriere, di via Carnia Libera e sette parchi gioco. A questi si aggiunge tutti i luoghi già considerati sensibili per legge in città e nelle frazioni, ovvero le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e il centro studi, le sedi ENA e i Pecefab, impianti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile, le otto sedi di banca a Tolmezzo e le poste. In pratica l'unica zona a restare disponibile è quella artigianale di fronte alla casa circondariale. Sono stati anche fissati orari precisi per l'accensione delle macchinette mangiasoldi. Si potrà attivarle solo dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 24 nelle sale gioche e nelle sale slot. Negli altri esercizi autorizzati, come edicole, bar, tabacchini, ristoranti, alberghi e ricevitorie dell'otto, invece potranno essere accese dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Il mancato rispetto degli orari costerà caro con sanzioni tra i 250 e i 1.500 euro per la prima violazione e tra i 500 e i 3.000 euro per la seconda. Il sindaco Francesco Brollo ha confermato che la misura è già operativa, pur comprendendo che per alcune attività le slot offrono un'integrazione utile. Di fronte alle sempre più evidenti difficoltà di molte famiglie, la Giunta non poteva più ignorare la situazione. La povertà è una bomba sociale che rischia di esplodere anche in un territorio come quello del Friuli Occidentale, che finora ha retto anche grazie al ruolo della cooperazione. Conf Cooperative Pordenone si unisce all'appello del suo organismo nazionale che in vista del 2050 lancia l'allarme per precari giovani che non studiano e non lavorano e cittadini costretti a lavori gabbia. Un gruppo di 5,7 milioni di persone che rischiano di alimentare le fila dei poveri in Italia entro metà del secolo. Condividiamo questo allarme, spiega Luigi Piccoli, presidente di Conf Cooperative Pordenone, dobbiamo lavorare oggi per il futuro delle giovani generazioni, non lasciando loro problemi che se trascurati saranno di sempre più difficile soluzione. La cooperazione sarà sempre più una risposta anche nel nostro territorio. Le norme su fisco e immigrazione varate dal presidente Trump negli Stati Uniti non devono far desistere le imprese friulane ad investire nel mercato americano che continua ad offrire ottime opportunità. Lo sostiene l'avvocato Daniele Ferretti dello studio Rod Partner che ha organizzato con Conf Industria Udine un seminario sul tema Palazzo Toriani. Gli Stati Uniti rappresentano il quarto mercato di sbocco per le aziende della provincia di Udine. È comprensibile che gli imprenditori friulani guardino con una certa preoccupazione a tutte le mosse del presidente Trump, in particolare queste riforme, immigrazione e fisco. Sono preoccupazioni che hanno senso di esistere? Alcune preoccupazioni esistono in quanto la normativa si è resa sicuramente più stringente rispetto al passato, però queste di per sé non sono limitazioni o vincoli che devono a mio avviso indurre gli imprenditori locali ad esistere a investire nel mercato americano che è un mercato che offre ottima opportunità di investimento. Adottando le opportune misure, adottandosi gli opportuni investi di lavoro e capendo quale soluzione la normativa locale offre in termini di fiscalità, in termini giuridici, si può sicuramente continuare a fare business negli Stati Uniti superando queste criticità e beneficiando di quelle che poi sono tutte i vantaggi che le imprese nazionali e friulane riescono a ottenere in loco. Quindi rischi da tenere in considerazione però senza dimenticare le opportunità? Assolutamente, ancora gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato al mondo, è un mercato sul quale le imprese italiane riescono a fare business molto facilmente in quanto i prodotti italiani sia di alta gamma sia complessi, soprattutto quelli industriali, sono molto apprezzati. Gli americani comunque sono molto molto vicini anche da un punto di vista culturale all'Italia, sono degli ottimi pagatori, quindi le criticità che normalmente si presentano all'estero con gli insuliti del pagamento negli Stati Uniti sono in realtà molto marginali. Da 40 anni CDA crede in un approccio aziendale attento all'ambiente e alla responsabilità sociale di impresa, una filosofia che le vale il riconoscimento di fabbrica della sostenibilità. Per il secondo anno consecutivo infatti l'azienda di Talmassons, che dal 1976 installa e gestisce distributori automatici per i servizi di ristorazione non solo, è protagonista assieme ad altre 16 realtà del Triveneto della Green Week 2018, la vetrina che promuove le aziende d'eccellenza innovative nel campo della sostenibilità. CDA l'unica realtà friulana selezionata quest'anno, ieri l'azienda ha aperto le porte della sua sede di Talmassons, a una quarantina di visitatori per mostrare cosa significa concretamente Green Economy. La seconda parte della Green Week sarà invece dedicata agli incontri e dibattiti del Festival della Green Economy a Trento dal 16 al 18 marzo e sarà inaugurata alla presenza del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. È tempo di riconsegnare ai rilevatori di gas Radom installati lo scorso ottobre nell'ambito del progetto Radom, misure per mille famiglie. La dirigente dell'ARPA, Concettina Giovani, spiega le modalità di invio dell'apparecchiatura e i dati che forniranno. 1.800 famiglie hanno ricevuto il dosimetro per il Radom. Entro il prossimo 20 marzo questi strumenti vanno riconsegnati. Dottoressa Giovani, a chi e come? Allora, possono essere riconsegnati per posto utilizzando l'apposita busta che è stata consegnata assieme al dosimetro che è preindirizzata, va affrancata e vanno spediti per posto. In alternativa possono essere consegnati ai nostri uffici in via Colugna 42 durante gli orari tipici di ufficio dalle 8 e mezza alle 4 e mezza del pomeriggio. Questo per Udine? Questo per tutti, è l'unico ufficio che c'è altrimenti per posta. Ci sono tutte le informazioni sul sito di ARPA in ogni caso. Benissimo, che dati ne ricaverete? Beh, naturalmente ogni famiglia avrà a casa propria un certificato con il risultato del suo dosimetro, quindi la concentrazione del Radom nella propria casa. Poi metteremo insieme tutti i dati, elaboreremo i dati e li presenteremo in un incontro pubblico a ottobre presumibilmente. Una notizia di cronaca appena giunta in redazione. Due uomini con il volto coperto da uno scaldacollo hanno rapinato ieri sera a Udine un edicolante e dopo averlo immobilizzato con la minaccia di un oggetto appuntito gli hanno sottratto circa 300 euro. I due presunti autori della rapina sono stati identificati subito dopo dalla Polizia di Stato e denunciati. Sono due giovani di 21 e 23 anni, cittadini albanesi, domiciliati in città. La rapina è stata realizzata intorno alle 19. L'edicolante è stato colto di sorpresa di due rapinatori mentre era intento a effettuare i conteggi della cassa e due uomini gli hanno intimato, in italiano e con accento dell'est, di stare fermo. Uno dei due lo ha bloccato alle spalle puntandogli contro un oggetto appuntito, probabilmente un taglierino. L'altro gli ha sottratto il borsello e il denaro del fondo cassa. Sul posto sono giunte la squadra volante, la squadra mobile della Polizia di Stato che hanno rintracciato a poca distanza i due sospettati, trovandoli con in tasca circa 300 euro di denaro con tante monetine ora posti sotto sequestro. Completata la prima parte dello studio dell'Università di Trieste finanziato dalla Regione sui sedimenti dell'isonzo e le conseguenze della loro presenza nella Laguna di Grano. Il banco della Mula di Muggia a Grado si sposta di anno in anno con una quantità di sedimenti che va ad alimentare il sistema di banchi dall'Isola del Sole fino a Portobuso. Sedimenti che partono dall'isonzo e si spostano grazie ai venti di vore e alle maree. Per salvaguardare questo particolare sistema la Regione ha avviato un apposito studio geomorfologico con l'Università di Trieste. Il banco della Mula di Muggia è un grande banco che è storicamente presente e abbiamo riportato un'analisi territoriale che evidenza ormai un banco che è presente da 200 anni almeno in cartografia. Il banco si muove, il livello del mare si alza, il banco trasla e si muove verso l'occidente a un ritmo di 12 metri all'anno e mentre si trasla riceve i sedimenti dell'isonzo quindi quello che abbiamo trovato come risultato cruciale è che il banco ha una sua tendenza naturale a traslare, a muoversi e questo è un fenomeno naturale ed è favorito anche dal grande accumulo di sedimenti che sta aumentando da parte dell'isonzo a causa dei cambiamenti climatici in atto. Avevamo delle lacune che dovevano essere colmate, degli aspetti conoscitivi fondamentali che dovevano arricchire il patrimonio di conoscenza che abbiamo sulla qualità e sullo stato di salute della nostra laguna, sia per quanto riguarda le acque, che sono chiaramente acque di balneazione sia per quanto riguarda in generale la laguna stessa fino all'entroterra. Ci spostiamo a San Giorgio di Nogaro, saranno inaugurati domani alle 12 nella sede del comando di Polizia Municipale, nuovi spazi del coordinamento di vigilanza, faranno corpo unico oltre a quello di San Giorgio e i comandi di Carlino, Porpetto e Marano. Per il comandante Ennio Bertoldi la collaborazione garantirà una copertura migliore del territorio, però si augura che sia presto assunto nuova gente, al momento siamo sulle 9 per 4 comuni, dice. Ci spostiamo a Monfalcone dove sarà più facile pagare i parcheggi, per farlo si potranno infatti utilizzare anche gli smartphone. Rivoluzione a Monfalcone per quanto riguarda i parcheggi. Attivata in questi giorni la possibilità di pagare il posteggio delle autovetture anche tramite smartphone con apposita applicazione, la cui copia per il controllo è già in dotazione al comando di Polizia Locale che può così iniziare i controlli. Questo sistema EasyPark ha la possibilità di dare una flessibilità per il pagamento dell'utenza del parcheggio, ovviamente fermo restando l'utilizzo anche sempre della monetina, quindi va a integrare qualcosa, un servizio aggiuntivo che pensiamo sia di grande aiuto per i cittadini che hanno bisogno e necessità di pagare un parcheggio, non hanno le monetine o si trovano in posta e hanno necessità di prolungare la posta e quindi non possono abbandonare la classica fila perché sennò si ritroveranno in difficoltà. Piccole azioni che vanno nel senso di dare come si dice anche qua il termine Easy, rendere un pochino la vita più easy. Abbiamo già tanti problemi e quindi cerchiamo di semplificare perlomeno dove si può appunto anche con un semplice parcheggio o il pagamento di un semplice parcheggio. Siamo alla pagina dedicata agli spettacoli, andiamo al Teatro della Corte di Osoppo con lo spettacolo Il Vizietto e il servizio di Vano Mattiussi. Come ultimo spettacolo di stagione grandi ospiti di Anatema Teatro, il Teatro della Corte di Osoppo ha ospitato l'omosessualità, tema d'attualità dottorascottante per il nostro paese, ispirata ad un'opera teatrale francese che Jean Poiré scrisse nel 1973, dalla quale nel 1979 è stato tratto il film Il Vizietto con Ugo Tognazzi e Michel Serrault. Il noto duo d'attori pordenonese e i Papu, Andrea Appi e Ramiro Besa, attorniato da un cast di sei attori, ha ripreso il copione sempre attuale di Jean Poiré che racconta dell'italiano Renato Baldi e di Albin, coppia di omosessuali che a Saint-Tropez gestisce uno sfavillante locale per travestiti dove lo stesso Albin si esibisce col nome d'arte di Zaza. I due che non nascondono la loro omosessualità vivono come marito e moglie. Nel passato di Renato però c'è stata una breve avventura eterosessuale dalla quale è nato un figlio, Lauren. La notizia che quest'ultimo si sposi getta la coppia nello sconforto, soprattutto perché il padre della futura sposa è un importante uomo politico, bigotto e conservatore, esponente di un partito che si propone di difendere a tutti i costi l'ordine morale. L'incontro fra le due famiglie crea non pochi problemi e il vizietto vuole penetrare nel mondo dei diversi non solo per trarre motivo di divertimento ma anche per mostrare come, al di là di certi aspetti che urtono la sensibilità dei normali, i diversi vivono drammi e tormenti che meritano rispetto e comprensione. A me non mi ci vedi neanche col binocolo qua, io non ne posso più, ne ho fin sopra le parrucche di quella là, glielo dirai, glielo spiegherai. Si è tenuto questa mattina al Palasport Ovidio Bernes di Udine il dodicesimo meeting studentesso indoor organizzato dal comitato Sport Cultura Solidarietà. Dannisi, la cosa che colpisce sempre venendo a questi eventi sono i tantissimi sorrisi che si vedono e questo è il più grande successo? Ma direi proprio di sì perché io posso constatarlo perché è 12 anni che facevamo questa iniziativa ed è sempre cresciuta nei numeri, nella partecipazione con circa un centinaio di atleti e una decina di persone con disabilità fra studenti e adulti. Siamo arrivati a circa 200, quindi abbiamo raddoppiato, sono circa una settantina le persone con disabilità e quindi direi che questa è un po' la testimonianza più tangibile di quanto sia sentita questa manifestazione, non solo dal punto di vista sportivo perché non è l'obiettivo primario di questa iniziativa ma questa visione socio-sportiva e socio-solidale e soprattutto educativa perché sugli spalti portiamo centinaia e centinaia di studenti che poi attingono grandi messaggi. Ci sono anche due importanti testimoni all'oggi? Sì, sì, Anna Incerti e Stefano Scaini. L'Anna Incerti ha fatto tre Olimpiede, campionessa europea della maratona, Stefano Scaini più volte campione mondiale della corsa campestre e sono dei bei veicoli di messaggi positivi. Giorgio Dannisi vi ha definiti più di testimoni a quasi amici? Sì, sì, soprattutto con mio marito Stefano perché collaborano insieme e quindi sì, noi quando ci chiamano partecipiamo volentieri a queste iniziative perché comunque adesso noi siamo già avanti con gli anni e loro sono il futuro. Ed ora tutti gli appuntamenti in regione nell'agenda curata per noi da Andrea Ioime. Oggi partiamo dal cinema. La Cineteca del Friuli rende omaggio al poeta Pierluigi Cappello con la proiezione al cinema sociale di Gemona di Parole Povere, affettuoso ritratto del poeta friulano in forma di documentario realizzato da Francesca Archibugi nel 2013 e distribuito dalla Tucker Films. A introdurre la proiezione Piero Colussi. Per la rassegna dedica in corso a Pordenone a Cinema Zero proiezione di Come Pietra Paziente, tratto dal bestseller di Attic Rahimi, protagonista del festival e vincitore del Goncourt nel 2008. Una di quelle opere straordinarie che ogni tanto il cinema sa dare costringendoci a pensare al dolore del mondo. Seconda e ultima giornata nelle sale della regione per la prima mondiale di Hitler contro Picasso e gli altri L'ossessione nazista per l'arte, lungometraggio sulla cosiddetta arte degenerata avversata dal nazismo con la partecipazione di Tony Servillo e colonna sonora originale di Remo Anzovino. Parte a Trieste al Teatro Mila prima di approdare a Udinal Visionario il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy che dal 2013 porta in Italia i migliori film del festival canadese del cinema di montagna. Prevista la proiezione di una selezione di corti e mediometraggi a tema a partire da The Frozen Road. Nell'ambito degli eventi, aspettando Sunset Boulevard, in un musical atteso in esclusiva nel capoluogo regionale, alle 18 e le 20 al cinema Giotto di Trieste verrà proiettato Jesus Christ Superstar per tracciare un tradunione fra i due capolavori di Andrew Lloyd Webber cui si devono le musiche di grandi successi. Ed eccoci alla musica, allo knulpe di Trieste il circolo del jazz Telonius ospita un gigante della musica di improvvisazione, il più grande esponente vivente del free europeo Ivan Parker, sassofonista che si presenta con un trio apparentemente convenzionale con Walter Prati e il chitarrista Andrea Massaria in cui l'elettronica orienta la creatività musicale. Sempre nel capoluogo regionale al Conservatorio Tartini, Stefano Sciascia e Davide Giovanni Leonardi propongono molto cantabile, un recital per piano e contrabbasso con un programma di melodie italiane che vanno dal 700 al 900 e includono alcune opere di Bottesini, il Paganini del contrabbasso. A Udine con solito appuntamento del mercoledì allo spazio Ersetti di Viale Volontari della Libertà con l'installazione di suono e luce The Dream a cura di Antonio Della Marina e Alessandra Zucchi. Teatro al Giovanni da Udine replica di Calendar Girls con Angela Finocchiaro, Laura Curino e Ariella Reggio, versione teatrale della storia vera di un gruppo di casalinghe che posano senza veli per un calendario, già film campione di incassi. Al Politame Rossetti di Trieste arriva a lunga giornata verso la notte una pièce poco frequentata di Eugino O'Neill che Arturo Cirillo dirige e interpreta, illuminando squarci drammatici sulla famiglia senza cliché edulcorati. Stessa location ma in Sala Bartoli per la replica di Anomalie da tre racconti dell'autore Mauro Kovacic, una nuova produzione del teatro stabile del Friuli Venezia Giulia. Chiudiamo con un appuntamento alla biblioteca guarneriana di San Daniele. Angelo Floromo incontra Idan Pucci per la presentazione del suo libro La signora di Sing Sing, storia della prima donna condannata alla sedia elettrica negli USA e della campagna contro la pena di morte condotta da un'ereditiera americana sposata da un nobile friulano, Cora Slowcomb di Brazza. Ed ora gli aggiornamenti meteo con Marco Virgilio. Buongiorno e bentrovati. Ecco l'alta pressione che oggi temporaneamente interesserà i mari italiani e anche il nord Italia in parte. Vedete qua una fascia in realtà, qui un campo livellato, un po' più forte sul settore centro-meridionale italiano. Poi osserviamo questa grande depressione atlantica con i minimi che si approssimano all'Irlanda, ma quella non ci interesserà. E invece terremo d'occhio questa zona tra la Tunisia e l'Algeria, dove venerdì tenderà a formarsi una depressione che poi ci interesserà soprattutto tra sabato e domenica. Intanto andiamo a vedere cosa accade oggi con condizioni di tempo tutto sommato discrete, diciamo così, nel senso ci sarà soleggiamento, però anche la formazione di parziali addensamenti, in particolare nel pomeriggio potranno dare luogo a qualche rovescio qua e là, soprattutto sulla fascia prealpina, ma non escluso anche sulle zone interne della pianura e chissà, forse anche sulle zone interne della provincia di Trieste, subito sul carso, alle spalle della città. Le nebbie e le foschie, queste naturalmente cesseranno nell'arco della mattinata, i venti sono deboli e la temperatura massima tenderà a rimanere intorno ai 15 gradi in pianura. Domani si avvicina un nuovo fronte, c'è il richiamo di area più umida, quindi cominciamo ad avere nuvolosità di nuovo più compatta, soprattutto sui rilievi, un cielo tra molto nuvoloso e coperto nel corso della mattina, qualche pioggia sui rilievi e neve sopra i 1000 metri e qualche locale solo pioggia al mattino sulle zone di pianura, in particolare su quelle interne, ci sono ancora le foschie e le nebbie, però attenzione, dalla sera, tra pomeriggio sera o dalla sera, meglio forse dire, arriveranno piogge più diffuse e anche abbondanti. Le temperature calano un po' nei valori massimi e tendono a aumentare lievemente in quelli minimi. Passiamo pure alla carta successiva. Ecco scenari di lungo termine, qua sopra le temperature alla quota di circa 1400 metri e qui il rischio, la probabilità di precipitazione. Ecco, cosa vediamo? Vediamo il peggioramento in arrivo proprio sabato con un temporaneo aumento della temperatura, però poi c'è la diminuzione e questa fase più fredda potrebbe iniziare praticamente da lunedì, ecco soprattutto, ne risentiremo un po' lunedì. Cosa accadrà? Il tempo sarà più stabile, ma si sentirà un po' più freddo e potremmo forse tornare anche, leggermi un po' sotto zero in pianura. Andiamo pure a vedere allora il riepilogo, intanto per chiudere questa settimana, un venerdì ancora con piogge tra la notte e la prima mattina, poi la situazione va a migliorare, ci sarà una certa variabilità, però rimarrà nel pomeriggio il rischio di rovesci sparsi, la neve tra i 900 e i 1200 metri, sabato peggioramento più marcato con piogge abbondanti soprattutto sul settore orientale della regione, neve a 900 metri circa inizialmente, ma poi verso sera la ritroveremo a quote abbastanza basse, collinari fino a 500 metri, temperature in lieve calo sabato e poi domenica caleranno ancora un po', lo zero va addirittura sotto i 1000 metri, la neve intorno ai 900 metri nella prima mattina, però poi il tempo rimarrà tra nuvolose e variabile, si va verso un certo miglioramento, poi come vi dicevo arriva il clima un po' più freddo, non grande freddo, però farà un po' più freddo, io direi che è tutto, vi saluto ci vediamo più tardi Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio Grazie per la visione! Grazie a tutti!